Siamo cautamente ottimisti e questo è lo stato d'animo con il quale il sindaco Francesco Cavallone ha accolto la nuova convocazione da parte del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. L'incontro è fissato a Roma presso il Ministero della Giustizia per il prossimo 16 ottobre ed avrà all'ordine del giorno l'ipotesi di ampliamento dell'Istituto Penitenziario di Sala Consilina. Una notizia che fa ben sperare perché dopo la conclusione della conferenza dei servizi nulla impediva ai burocrati ministeriali di emettere un provvedimento di conferma della chiusura del carcere. Qualcosa invece sembra essere davvero cambiato ma il sindaco preferisce tenere i piedi saldamente a terra continuando a monitorare attentamente la situazione assieme al senatore Franco Castiello. Il sindaco ribadisce anche il suo impegno per la più difficile situazione dell'ex tribunale e chiarisce che l'occupazione della struttura con altri uffici non impedisce il ritorno del servizio a Sala Consilina. Ci sono gli atti e le carte che lo dicono in maniera chiara, le idee libere, i contratti. L'edificio che ospitava l'ex tribunale è stato acquistato ai tempi dal comune di Sala Consilina con un mutuo agevolato proprio per una finalità di giustizia e per questo motivo ha ospitato il tribunale fin quando la legge ha consentito che ci fosse. Poi dopo dal 13 settembre 2013 il tribunale non vi è più a Sala Consilina sono passati cinque anni ma tutti gli uffici che sono entrati all'interno del tribunale al di là di un vingolo di legge che prescinde da un obbligo contrattuale c'è stato scritto nel contratto che nell'eventualità non solo dovesse tornare il tribunale ma qualsiasi ufficio che dovesse attenere a problematiche di giustizia quella parte di edificio occupata da uffici che non hanno a che fare con problematiche di giustizia dovrà essere liberato. Non vorrei che passi il messaggio distorto, sbagliato e falso che il tribunale non torna a Sala Consilina perché sia stato occupato. Questa non può essere data un'informazione peggiore o cattiva perché è disinformazione e soprattutto si crea disordine all'interno di un territorio che non ne ha bisogno anche perché non è soprattutto vero. Vorrei ricordare che l'obbligo di un buon amministratore è quello di utilizzare le strutture pubbliche e se per cinque anni noi avessimo tenuto chiusa quella struttura senza alcuno torna a conto, quella struttura sarebbe deperita con il trasferimento di questi uffici. Credo che ci sia stato un risparmio a carico della collettività di circa 150 mila euro.